Tre ragioni per cui l'intervento di Piero Fassino sullo stipendio dei parlamentari è uno dei peggiori esempi di comunicazione di sempre. Ogni qualvolta sentite dire che i deputati godono di stipendi d'oro, non è vero. Prima ragione, questo intervento manca completamente di decentramento cognitivo. Siamo nel momento in cui 169.000 famiglie perdono il reddito di cittadinanza e lui descrive 4.718 euro netti al mese come non uno stipendio d'oro. Seconda ragione, è un intervento che risente di false consensus effect secondo il quale noi pensiamo che le nostre argomentazioni siano generalmente condivise o condivisibili dalla comunità delle persone che ci ascoltano. Questo vale probabilmente per le persone che lo stavano ascoltando in aula. Peccato che ci fosse una diretta e che quindi tutti in quel momento potessero ascoltarlo. Ed è proprio da questo secondo errore che discende il terzo. Piero Fassino non rompe la quarta parete. Bertolt Brecht sosteneva come le pareti del teatro dovessero essere tre e non quattro perché l'attore doveva e poteva parlare con il pubblico. Bene, Piero Fassino parla come se parlasse tra le quattro pareti del palazzo senza considerare che in mezzo al posto della quarta parete c'è la telecamera, c'è lo streaming, c'è la diretta e questi sono gli effetti catastrofici dal punto di vista comunicativo.